Marco, a che tanti sei avvicinato alla bicicletta? Diciamo che ho iniziato molto tardi ad andare in bici da secondo anno junior e quindi questo è il mio quarto anno che corro e speriamo di avere una lunga carriera. Come hai scoperto la bicicletta? Non ho in famiglia genitori o fratelli che vanno in bici. Ho iniziato così, mi sono svegliato un giorno e mi ha avuto questa voglia di andare in bici e sono partito e stiamo andando avanti anche ora adesso. Le prime sensazioni quando salivi su una bici? Belle, mi ricordo il primo giorno dove ho fatto 20 km in bici e da lì sono arrivato a casa felice. Il giorno dopo ne ho fatti 40, il giorno dopo sempre di più finché sono arrivato fin qui. Il tuo ideale di corridore oggi? Oggi è Vincenzo Nibali perché è veramente un corridore molto trasparente e che comunque va anche molto forte e fa vedere la parte pulita del ciclismo. La corsa che sogni di vincere? Ma è una tappa al Giro d'Italia, sicuramente è una corsa che mi piacerebbe vincere. Il tuo obiettivo per questa stagione? Ma questa stagione sicuramente tra i professionisti cercare di arrivare davanti nelle corse più dure e mentre tra gli under cercare comunque di portare a casa almeno una vittoria. La più grande soddisfazione che ti ha regalato questo sport fino ad oggi? Ma sicuramente la fatica, saper fare fatica, sacrifici e impegnarsi sempre perché ti dimostra questo. Come ti definisci come atleta? Ma un atleta che va abbastanza forte in salita e abbastanza anche in pianura. Diciamo che sono un mezzo e mezzo e cerchiamo di migliorare in tutti i due i campi. Cosa significa per te la salita? Ma la salita sicuramente è un grande sforzo. Diciamo che nelle salite più lunghe magari sono meno adatto, quindi magari quelle più corte sono più adatte a me. Cosa significa per te praticare uno sport di squadra? Come il ciclismo dove vince uno solo ma alla fine è sempre uno sport di squadra? Sicuramente vince uno, però vince grazie a tutta la squadra e quindi sicuramente bisogna essere uniti per portare a casa la vittoria. Concludendo il tuo messaggio ai bambini che si avvicinano alla bicicletta? Sicuramente il ciclismo e la bicicletta sono veramente un bello sport e insomma sì, magari fin quando sei bambini li prendono come un gioco, come un divertimento. Poi mano a mano che si cresce può diventare anche un lavoro. Poi mano a mano che si cresce può diventare anche un lavoro.